Buongiorno a tutti, oggi vi mostreremo una nuova funzione per la formatazione dei testi e dei documenti. Il programma supporta l'utilizzo del linguaggio HTML per formattare il testo nei documenti e nelle descrizioni degli articoli. L'HTML è uno standard mondiale utilizzato per creare le pagine web. Questo linguaggio utilizza parole chiave, dette tags, racchiuse tra i simboli maggiori e minore. I tag sono inseriti prima e dopo il normale testo, per ottenere il layout o il formato che si desidera. Data la complessità dell'argomento, questo video non tratterà le regole e le sintassi dell'HTML. Quindi si prega di fare riferimento alla bibliografia online per ulteriori informazioni. La nuova funzione Stili di testo è un modo rapido per ottenere lo stesso risultato senza alcuna conoscenza del linguaggio HTML. Ciò richiede la creazione di un database di stili predefiniti, che possono essere facilmente applicati ai testi nell'archivio. Vediamo come fare. Apriamo il menu Stampa e l'archivio Stili testo. Innanzitutto occorre creare uno o più stili che si desidera utilizzare. Ogni stile richiede di scegliere un nome e una o più opzioni di formatazione del testo. Le opzioni disponibili, per esempio, includono quelle più comuni, grassetto, corsivo, oppure il colore del testo, la dimensione. Creiamo quindi un nuovo stile chiamato Importante. Questo lo mettiamo in grassetto, evidenziato e di colore rosso. Poi ne creiamo un altro chiamato Standard, in corsivo, sottolineato e di testo verde. Come potete vedere, nella sezione seguente viene visualizzata un'anteprima che mostra il risultato su un testo di esempio. La sezione sopra, invece, mostrerà il codice da inserire per applicare lo stile di testo, oppure il testo equivalente utilizzando il solo codice HTML. Vediamo ora come utilizzarli nei documenti. Quindi andiamo sul menu stampa, documenti e prendiamo il nostro preventivo. Per applicare lo stile di testo ad una parte del testo è necessario racchiuderlo all'interno dei tag dello stile richiesto, come visto poco fa. Quindi mettiamo qui l'importante. E invece la parte successiva la mettiamo standard. Se tutto è corretto, una volta salvato il modello di documento, sarà possibile vedere subito un'anteprima. Infatti abbiamo il testo evidenziato in giallo di colore rosso e quello invece sottolineato di corsivo di colore verde. Qualsiasi modifica allo stile di testo in archivio viene mostrata in tempo reale in tutti i documenti in cui è presente. Quindi, se torniamo su stile di testo, è standard. Per esempio, cambiamo il colore in magenta. Automaticamente il nostro documento in archivio verrà modificato. Lo stile di testo inoltre può essere utilizzato anche sulle descrizioni delle tipologie e su tutti i testi correlati che possono modificare le descrizioni della tipologia stessa, ossia il campo desk tipologia, che è presente in diversi archivi. Vediamo quali. Abbiamo in archivio profili, nell'archivio accessori, nell'archivio colori, nell'archivio opzioni, nell'archivio kit moltiplicazione mt, e nell'archivio tipologie, nel quadro definizione struttura della tipologia. Modifica, dati. In questi campi, quindi, è possibile inserire un testo formattato. Quindi, per esempio, qui possiamo mettere standard. e come possiamo vedere il testo, appunto, verrà formattato utilizzando lo stile. Questa descrizione, quindi, poi comparirà automaticamente nella descrizione della tipologia dell'archivio. Vi diamo un esempio anche facendo una stampa dalle commesse. Documenti, preventivo, stampa, PDF. Ecco il documento con l'utilizzo degli stili di testo importante e standard. Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro.